Mi chiamo Gloria E da quando è iniziata questa storia la nostra vita è cambiata Che ne diresti di superare 1217 entrate? Fabiana, stiamo pensando di organizzare una festa Nessuno aveva mai organizzato una festa così Se dobbiamo metterci in gioco anche quest'anno Tanto vale farlo per la festa più grande della scuola Tutti i ragazzi di questa scuola si staranno chiedendo che cosa faremo E dove organizzeremo? Organizzeremo l'estogana È fondamentale che nessuno abbia la minima idea di ciò che stiamo facendo C'è la flamme 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 I'll go wide I'll go inside I'll go I'll go Grazie a tutti.